Di cà! Lascia Diugo, lascia! Andiamo a fare un po' di spray Facciamo un po' di spray! Facciamo un po' di spray! La posizione la lascia! Ferro! Allora io girati lì in me! Ferri! Oh! Apriti! Giochiamo sta parte! Salta! Occhio di fuoco! Salta e mette! Metti sopra! Accorcia, 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 accorcia! 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 Accorcia, accorcia! Bravo! Bravi ragazzi! Bravo Dario! Torcio al stringi! Bravo Cuccella! Un po' ce l'hai! Cuccea di scari! Metto! Bravo! Metti scatti! Metti, metti! Metti giulciò! Esci! Metti giulciò! Diretti di giulciò! Bravo Bullar! E hai paura! Calmo! Documentare! Vai! Eccola! Eccolo! Su! Gira, gira, gira! Raga! Vieni! Calma! Vieni! Calma! Vieni! Gira ancora! Gira ancora! Rosati, porta la palla, bravissimo, va bene, va bene cappello, va bene, va bene, dai, vai in alto, bravo grato, pranzo, la diagonale sulla palla, Luca, un cappello, continui, facci fivventi, bravo, 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 non c'è il contratto grande ricca divencio, divencio bravo il padre, va bene, va bene rimaniamo attimo rimaniamo attimo esatti, divencio divencio, fai il passavanzo arbitro, arbitro, signore vai 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 grazie dai Dario non stare fermo dai Nico un po' troppo andate così quando sta troppo alto poi andate a troppo con la marcatura di Vendizio e poi te lo prendi dopo salta sai che sto giù vieni da calma gioca Alessandro stai calmo gioca con i difensori dai ecco da parte gioca 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 la bala veloce giro di qua eccolo dai 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 lugano le persone le persone le persone le persone Mi portavamo io? E a poi 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 Stai lì Marco, stai lì, stai lì, andrà, entra! Stai lì, andrà, entra! Ugo, ugo, stai lì la palla eh! Dai Ugo! Oh! Ma uno sul secondo palla, vogliamo andare? Andrà! Ruben! Ruben! Ma quando è? Oh! Ma quando è? Niccolò! Su questa palla quando ci entriamo? Accorcia, accorcia, accorcia! Accorcia, accorcia! E' presione! E' presione! E' presione! Bravo! Bravo! Dai, va bene così, su! Dai Francesco! Su! Tanta uno! Mi può, mi può! Calma Ruben! Bravo, sopra, dai! Buono! Va bene, dai Valè! Buona Valè, dai! Così! Vieni! Non buttare! Non buttare! Non buttare! Dai, su Valè! Accompagna! Accorcia! Vieni al campo! Vieni al campo! Emanuele! Non buttare! Gira sto gioco in gioco! Dai! Dai! Ecco, ecco la usa! Dai! Vieni al campo! Vieni al campo! Dai! Dai! Vieni a questa palla! Su! Emanuele! Dai! Allunga il campo! Allunga! Vieni al campo! Tassi! Dai, trompetta! Ecco la trompetta! Su! Veloce! Stacca! Vieni al campo! Uno, due! Vale! Sì! Emanuele! 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 Sì! grazie Francesco vai Francesco vai 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 aiuta gente su spiega ma le ammolizioni le hanno zerate si la ha zerato il mondo le ha zerato la città la città e la città la città la città la città